Sono d'accordo con te, se non c'è nessuno non viene falla saltare Ma fa la bomba? La cena Ho capito, se continuano così però scoppia Ma la bomba? No, mia sorella scoppia perché la stressano al lavoro Come esplosa? La bomba? La gomma, ho lasciato la macchina del gommista e esplosa la bomba Amico col panico da bomba? Il 7 maggio portalo all'azienda biologica Tre Botti Eco Wine Experience Una giornata tra natura, sostenibilità e vino Si passeggia fra gli oliveti, l'orto, la tomba etrusca Conoscerai l'asina, poi degusterai i nostri fantastici vini Abbinati ai prodotti realizzati in azienda Tutti biologici e meri in tuscia Siamo a Castiglione in Teverina Prenota l'Eco Wine Experience su trebotti.it Trebotti? Trebotti Sette maggio, offerta bomba Ma puoi venire a trovarci tutti i giorni, tutto l'anno